In questi sei anni ho consegnato la mia sceneggiatura Olio su Mela a tutti, ho dato, veramente. Sono tuori che ti cerco qui nel bosco. Ah, ora stiamo a Villa Borghese. Beh, diciamo che nel campo della calzatura mi sento la più competente, quello di vita un po' superbia. Lui si chiama Sanis Jacques-In Bonplap, del Pioppo, e è tipo mezzo greco. La madre è francese, il padre invece è umbro, però non è bizzante. Devono scopare sempre. Ho capito, ho una fatica però, eh. Vabbè, ma perché quanto vi basta voi? C'è un'oretta. Un'oretta, Dì, che minchia fai un'oretta? E io dopo un po' dico, gioia mia, mi devi mandare a casa, tesoro. Tu gliela devi abbassare la sicurezza, ok? Gli fai tipo, amore, ma che te sta venendo la stampiata? Sono troppo carina, amore, io ti amo, pure se tieni la pelata, mi ci spegne. Il colore della pelle conta. Potremmo fare direttamente forse a Londra. Quando a Londra? Pantelleria. Da Pantelleria. Posso che mi dai una data, una data. Sara. Quei Beduini, le stelle. Una coordinata. No, lo so, Argentario. Non ce lo diciamo. Non me ne frega niente se mentre rimango indifferente. Mi trovate qua. La mia è una bella storia. Non me ne frega niente di niente. Sognami. Mi devi sognare. Niente di niente.